E' finito in manette un 36enne originario dell'Est Europa ma residente da anni ad Arezzo. L'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio. Di sostanza stupefacente è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato con 150 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. L'intervento è scattato in seguito ad una lite accesa con la compagna. Secondo quanto ricostruito i due sarebbero venuti alle mani. In particolare l'uomo avrebbe prima aggredito verbalmente la donna e poi l'avrebbe spintonata provocando le ferite. Una volta che i poliziotti sono arrivati nell'abitazione tutto sembrava essere tornato alla normalità e la donna non avrebbe voluto sporgere denuncia. Ma il comportamento di insofferenza dell'uomo ha destato i sospetti dei poliziotti che hanno quindi proceduto ad una perquisizione. Nel garage di pertinenza dell'appartamento, sopra una panca da bodybuilding, è stata rinvenuta una busta. Con 19 involucri di cocaina di circa 7 grammi ciascuno e 9 da un grammo per un totale di 150 grammi di droga. Lo stupefacente, già confezionato in dosi e pronto per essere immesso nel mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Il 36enne è stato arrestato.